Sì, sì, adesso godiamoci la festa, poi la prossima volta studieremo la partita. Era importante vincere di due, ci abbiamo fatta, mettiamola che così è ancora più bello per festeggiare. Ecco, analizzando la partita, 5-0 di parziale da parte loro, eravamo avanti più 5, sembrava chiusa, invece poi alla fine abbiamo sudato, ci ha salvato Dejan. Sì, stavo parlando adesso in panchina con Vito e Demis, siamo stati un po' stupidi, forse pensavamo di avere la messa già in ghiacciaia e abbiamo calato un po' di concentrazione, loro non hanno mollato mai fino alla fine. Comunque sì, siamo stati benissimo, bravissimi, fino in fondo abbiamo lottato, un po' di fortuna finalmente ci è servita anche perché l'ultimo gol di Dejan, 90% di bravura. 90% di bravura e 10% di fortuna, va bene così, adesso festeggiamo, domani pensiamo a migliorarci. Ma io questo gruppo se lo meritavo. Sì, sì, siamo veramente un gruppo affietato, si vede anche da come abbiamo festeggiato, è un mix di giovani e vecchi e io sono contentissimo perché la mia prima qualificazione è stata il mio esordio contro l'Islanda e oggi che ho quasi 35 anni faccio la seconda e sono emozioni indescrivibili che quando ero giovane non si capivano bene, adesso mi tremo la voce e sono contentissimo. Obiettivo raggiunto. Sì, questo era importante, sapevamo che sarebbe stata una partita difficile, molto delicata, abbiamo giocato per tre quarti veramente molto bene, sia in difesa che in attacco, correndo molto più che la partita precedente, non so cosa sia successo negli ultimi 15 minuti, come se avessero paura di vincere, invece di accelerare hanno rallentato, facendo veramente degli errori che non dovevamo fare perché segnavamo molto più facilmente correndo piuttosto che su posizioni schierata. Comunque l'opportuna è stata dalla nostra parte, forse ce la siamo meritata. Se avessi dovuto scegliere un finale forse questo è quello perfetto. Comunque tornando alla partita penso che per 45 minuti siamo stati perfetti, infatti eravamo sul più 6, abbiamo avuto un lungo passaggio a vuoto soprattutto in attacco dove abbiamo sofferto la loro difesa, non solo qui ma anche da loro e sono stati bravi loro a recuperarci 6 gol, alla fine c'è stato solamente il cuore e la voglia di raggiungere questo traguardo per noi ma soprattutto per tutto il movimento italiano che merita sicuramente i palcoscenici più importanti.